Una cerimonia militare tra le più suggestive, il carosello storico dei carabinieri che vede sfilare il quarto reggimento carabinieri a cavallo e che si svolgerà nella città di Taranto. Il prossimo 24 giugno infatti lo stadio comunale del capoluogo ionico ospiterà l'evento che rinsalda ulteriormente il legame tra comune e l'arma dei carabinieri. È un evento di grande importanza per noi carabinieri perché consideriamo che è uno di quei prodotti dell'arma conosciuti in tutto il mondo. Da ultimo voglio ricordare che la stessa regina Elisabetta ha assistito personalmente a tre caroselli, due fatti a Roma e uno l'ultimo nel 2012 proprio in occasione dei festeggiamenti per i 60 anni di regno della regina. E quindi una particolarità dell'arma, un'unicità a livello mondiale per i numeri e per tipo di esibizione, di difficoltà delle figurazioni che vengono eseguite. Le grandi storie poi stanno sempre, camminano sulle gambe delle persone e io il mio grazie lo voglio in qualche maniera trasferire innanzitutto al nostro comandante provinciale, al comandante Giardelli perché è una sua intuizione, insomma tanta passione che ci sta mettendo per questa città, lui e i suoi uomini ovviamente, i risultati si vedono anche nell'attività ordinaria. E poi al nostro gabinetto insomma tutti gli uomini e le donne di Palazzo di Città che lavorano intorno a questi eventi, che sono eventi complessi, carichi di servizi, di logistica, di impegni che in qualche maniera tengono la macchina sotto stress. Però poi i risultati li vedremo, sono i risultati di cui la città ha bisogno insomma per completare quel suo percorso anche di trasformazione, di reputazione positiva nei confronti del paese, dei visitatori e anche dei propri cittadini.